Un'iniziativa importantissima, un convegno in memoria di Mario De Kunso, già sovrintendente della sovrintendenza di Salerno. Diciamo che Mario De Kunso è stato il fondatore della sovrintendenza. Io stesso lavoravo ai tempi del post terremoto dell'Ottanta alla sovrintendenza di Milano e quindi lui fece una sorta di campagna acquisti per recuperare funzionari un po' in tutta Italia per istituire appunto la sovrintendenza che ancora oggi è. E domani, meglio la giornata del 10 agosto, in occasione, diciamo come se fosse una ripresa di un evento che lui aveva voluto fortemente tra il 1982, quando la sovrintendenza fu affidata alla nostra sovrintendenza, fino a quando poi è andato via da Salerno, aveva espresso la volontà di, in occasione della festività della ricorrenza di San Lorenzo, di svolgere degli eventi all'interno della cetosa. È un evento che abbiamo ripreso dopo diversi anni e infatti approfittando di questo evento negativo della perdita appunto del Mario De Kunso, che è venuto a mancare qualche mese fa, c'è una commemorazione della sua attività proprio nel refettorio della Cettosa di San Lorenzo e alla quale parteciperà il direttore Polo Museale, il professore Sisini, che all'epoca era direttore generale dell'ufficio centrale beni archeologici, architettonici, eccetera, eccetera. Poi la direttrice dell'epoca, la dottoressa Vega De Martini e tanti altri esponenti, tra cui il senatore Affonso Andria, il dottor Enzo Mattina e il soprintendente di Potenza. Sarà l'occasione per riaprire uno spazio che era chiuso da un po' di anni, è una mostra che aveva allestito la dottoressa Vega De Martini, che è stata la prima direttrice della Cettosa di Padula nel 1982, e poi di presentare i nuovi eventi che si sono programmati all'interno della Cettosa. Soprattutto quello che riguarda il progetto finanziato col Piano Operativo Nazionale Cultura e Sviluppo 2014-2020 e che prevede appunto la fruizione innovativa della Cettosa di San Lorenzo. Tante le iniziative anche per far agosto. Saranno aperti musei sia a Saleno Città, in provincia, ma soprattutto anche ad Avellino. A Salerno Città sì, certamente, grazie al gruppo archeologico salernitano. Il giorno di 14 e 15 agosto sarà aperta San Pietro Accorte, ma anche la Cappella Palatina. Poi a richiesta il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana e il Museo Archeologico Provinciale, il Castello di Arechi, mentre invece in provincia l'area archeologica di Villa Romana di Minori, il Santa Maria dell'Olearia Maiori, e il 14 la Villa Romana della Cattedrale di Positano di Santa Maria Assunta, e poi in provincia di Avellino i siti archeologici di Atrivalda, di Avella e di Mirabella e Clano. Quindi diciamo un'offerta abbastanza vasta che ha visto il coinvolgimento non soltanto del nostro istituto, ma anche della provincia di Salerno che ha collaborato attivamente con la sovrintendenza dei comuni che poi hanno messo a disposizione le loro risorse per queste aperture in giorni particolarmente difficili, perché il personale si riduce, ma importanti perché ci sono delle affluenze turistiche veramente notevoli. Ferragossa, apertura con San Pietro Accorte, con la Cappella Palatina. Abbiamo risposto positivamente all'appello della sovrintendenza ABAP Salerno Avellino, come sempre, ogni qualvolta c'è la possibilità di rendere fruibile il complesso monumentale di San Pietro Accorte, per cui noi saremo presenti il giorno di Ferragosto in mattinata con i nostri soci, con visite guidate e gratuite. Colgo l'occasione innanzitutto per associarmi al ricordo di Mario De Kunzo, che io ho conosciuto personalmente, sono stato spettatore di un duetto quasi rusticano fatto con l'allora sovrintendente archeologo Werner Ioannoschi, proprio a San Pietro Accorte, e in quell'occasione l'architetto De Kunzo dimostrò tutta la sua passione, tutta la sua attenzione a che il complesso di San Pietro Accorte avesse uno scavo archeologico, sistematico, stratigrafico. E poi voglio ricordare la figura di Velia Tancredi, che ci ha lasciato pochi giorni fa, già dipendente di questa sovrintendente, ma presidente del Centro Storico di Salerno, una persona che ha sempre svolto il suo compito con diligenza, con passione e ha dato moltissimo a questa città con la sua associazione nella gestione dei monumenti.